La longevità del paese Italia è una longevità estrema perché siamo tra i 4-5 paesi con l'aspettativa di vita più alta del mondo e certamente siamo comunque invece il paese più vecchio del mondo, nel senso che abbiamo la più alta percentuale di ultra 65 anni, abbiamo sfondato il muro del 20%. Allora questo è certamente un bene perché l'alternativa alla longevità è ovviamente non estremamente eccitante, ma può diventare un problema nel momento in cui non ci attrezziamo. Il pensionamento a 57 anni è una follia biologica che viene sostenuta per ragioni anche dal punto di vista ideologico poco comprensibili perché uno rischia di essere veramente tacciato di ignorante e credo da questo punto di vista chi sostiene il pensionamento a tutti i costi ai 57 anni dovrebbe andare a studiare molto semplicemente. C'è un dato recente di Science che fa vedere che per questa mancanza di posticipare il pensionamento a età superiori, se l'Italia continua a mandare in pensione a 57 anni proprio non arriveranno nuove braccia, nuove forze per rimpiazzare quelli che sono andati in pensione per cui nel 2020 il PIL diminuisce dell'11%, centinaia di migliaia di miliardi di Euro. Boh, continuassero a sostenere queste teorie, chi le sostiene mandano in rovina il paese, congratulazioni. I politici sono troppo preoccupati di quello che succede il pomeriggio dopo o la mattina dopo, per cui sono preoccupati evidentemente in questo caso di non perdere i voti di chi teoricamente sostiene quella parte che ritiene che si debba andare in pensione a 57 anni perché magari si è lavorato un esagerato numero di anni alla catena di montaggio. Ora, a parte che le catene di montaggio sono certamente diverse di quelle di un tempo e quindi la fatica è relativa, certamente dobbiamo rispettare i lavoratori usurati, su questo non c'è dubbio, ma non è che siano questo numero spaventoso e sostenere che le maestre d'asilo, come mi è capitato di sentire, sono lavoratrici usurate, ora sì, ma sarà meglio che zappare i campi, no? Quindi da questo punto di vista non è che bisogna semplicemente stare ad ascoltare chi studia questi fenomeni per mestiere. Noi li studiamo dal punto di vista della salute, ma sappiamo bene che oggi un settantenne ha le performance di un cinquantenne. Quindi se mi diminuisce il PIL dell'11%, se mando le persone in pensione a 57 anni e ho nel frattempo i settantenni in ottime funzioni fisiche, allora semmai io mi aspetto da questi politici che si inventino il modo per cui dai 57 ai 70 queste persone siano comunque risorsa per il Paese. Allora posso accettare il pensionamento, ma devono trovare il modo per che queste persone diventino risorsa per il Paese. Un piccolo esempio, noi abbiamo fatto, tanto proprio per fare una mini provocazione, abbiamo istituito un premio con un'ex IPAB romana di 100 mila Euro, dati gratuitamente, senza niente in cambio, se non qualcuno che è pensionato, ultra 65enne, vuole fare lo start up di una nuova attività imprenditoriale, privilegiando quelli che presenteranno domande dove c'è l'assunzione di giovani al primo impiego, quindi il trapasso nozioni. Ecco, una roba del genere, se lo facesse il sistema Paese, è possibile che l'abbiamo proposto noi che facciamo di mestiere i medici e non ci pensano i politici. L'invecchiamento della popolazione pone pressione sulla spesa sanitaria italiana perché diciamo che gli anziani sono il 20% del Paese e consumano grosso modo il 60-70% delle risorse sanitarie. Detto questo, noi siamo un Paese dove la percentuale di PIL spesa per la sanità è ancora molto bassa, intorno al 7%. Pensate che negli Stati Uniti si spende il 15%, quindi di fatto c'è un servizio sanitario nazionale che costa poco ed è stato giudicato tra i migliori del mondo. Fatto sta che purtroppo però è un servizio sanitario nazionale che non tiene affatto conto dell'invecchiamento del Paese. Noi diciamo che abbiamo la rete dei medici di medicina generale e la rete ospedaliera che sono delle certezze, il Paese può contare su queste due reti. E manchiamo completamente di tutta la parte di assistenza agli anziani. Se pensate che noi abbiamo istituito il servizio sanitario nazionale nel 1978 e l'abbiamo copiato integralmente dal servizio sanitario nazionale inglese, gli inglesi sono stati i primi a dotarsi di un servizio sanitario nazionale, l'abbiamo copiato integralmente tranne la parte che gli inglesi avevano e hanno istituzionalmente dedicata di servizi specifici per gli anziani. Gli anziani hanno bisogni che sono particolari, hanno bisogno di assistenza domiciliare, hanno bisogno di assistenza in istituzione, hanno bisogno di altre realtà presenti nel territorio. Oggi gli anziani del nostro Paese hanno solo alla fine dei giochi il medico di medicina generale e poi il pronto soccorso dell'ospedale. E quindi di fatto il problema serio è che la gestione della cronicità ha bisogno di assistenza domiciliare e di istituzioni, pensate a una donna ultranovantenne, demente e sola, che ci fa con il pronto soccorso dell'ospedale e con il medico di medicina generale? Purtroppo ha bisogno di una residenza dove passare gli ultimi anni della propria vita. Noi abbiamo dei numeri bassissimi a questo proposito, perché solo l'1% degli italiani ha un'assistenza domiciliare, l'1% degli ultimi 65 anni e solo il 2%, grossomodo, con grandi differenze regione per regione, ha una possibilità di essere assistito dentro una RSA. Si chiamano RSA adesso, quelle che un tempo si chiamavano case di riposo, per capirci. Questo contrasta con i dati dell'Europa. L'Europa nessuno va sotto il 7% di assistenza domiciliare, arrivando al 20% di assistiti in assistenza domiciliare nei paesi del nord Europa e nessuno va sotto il 6% di istituzionalizzati, cioè di persone dentro le case di riposo, le RSA, per gli ultimi 65 anni. E questo fa ridere i polli. Non a caso gli italiani, bravissimi nel fai da te, hanno risolto il problema con le badanti. Abbiamo un milione di badanti, tra un po' avremo il problema politico e sociale della gestione delle badanti. Ovviamente ancora sono pochi, però non è che i geriatri debbano assistere tutti gli ultimi 65 anni. Non preoccupatevi. Anche perché spesso si preoccupano i medici di medicina generale che pensano che i geriatri gli usurpino il posto. C'è un malato particolare, che è il paziente geriatrico, che in genere è una persona che ha più di 75 anni, in genere donna, con un mucchio di patologie, 3, 4, 5 malattie insieme, che prende un mucchio di farmaci, poi ha scelta, è spesso incontinente, cade, è anemico, perde massa muscolare, insomma funziona male. Una persona che funziona male è che è detta anziano fragile, una persona fragile, come gli scatoloni dove c'è dentro il vetro, che basta che fai così che si rompe. Politicamente corretto si chiama fragile, in modo politicamente scorretto, è quello che, mi ricordo quando io ero giovane studente, la caposala, una monaca assolutamente timorata di Dio, diceva quando arrivavamo la mattina, dottore, dottore, stanotte hanno ricoverato un catorcio. Cioè una persona con un tale mucchio di problemi, in cui poi c'è anche una componente socio-assistenziale, che diventa molto difficile una gestione se non fatta attraverso le competenze, è come un malato neurochirurgico, servono delle competenze specifiche, che ce l'ha il geriatra insieme a una rete di servizi. Le principali carenze del sistema italiano sono quelle che in qualche modo vi ho accennato di carenze sul territorio, assistenza domiciliare e RSA. Servono una forte rete di assistenza domiciliare, e servono nuove figure professionali, in particolare una, insomma negli anni 50 c'erano le vigilatrici, le puericultrici, le maestre d'asilo, perché nascevano un mucchio di bambini, erano tutte professioni che adesso avete sentito più parlare di vigilatrici d'infanzia, io no, non esistono più, esistono invece, devono esistere professioni nuove per il vecchio non autosufficiente. Ci sono, si chiamano case manager, e sono persone che sono sostanzialmente infermieri, professionisti della valutazione del bisogno. Bisogna tagliare letti di ospedale e quelle risorse lì, perché non servono tutti questi letti di ospedale che abbiamo, e quelle risorse lì date al territorio e date all'assistenza domiciliare e alle RSA. C'è poco da condividere, sono scelte irragionevoli dal punto di vista biologico, da una parte, e anche per quello che credo sia l'unico petrolio del Paese, appunto è questa vecchiezza sana che non viene utilizzata come risorsa, viene semplicemente messa in pensione. Mi pare un assurdo.